Salvatore Caserta, siamo in Averni, in 2021, quindi questa novità di TV3. Sì, salve, la novità viene insieme alla ripartenza, il modello premium del nostro blasonato apparecchio Cash Recycle, una versione premium che dà un tocco di nuovo design al nostro apparecchio. E' sempre uno dei migliori nel mercato VLT, gestione di sala, contante, qualsiasi cosa. La macchina è in grado di gestire un po' tutto il contante a disposizione in sala, così da ridurre problemi di ammanchi e furti. Quindi molto si punta sulla sicurezza, la sicurezza e sulla facilità di utilizzo. Sì, con questo apparecchio qui facciamo un piccolo step in su in merito proprio alla sicurezza, in quanto proprio a una classe di sicurezza superiore al modello precedente. Sono quasi 300 kg di peso con una struttura veramente, veramente tanto solida. In più abbiamo ingrandito lo schermo, possibilità di personalizzazione, un design più accattivante con l'inserimento dell'illuminazione LED. Questo momento, diciamo, diceva prima di ripresa, la presenza in fiera oggi è importante per la società, per questo marchio, per essere presente sul mercato italiano? Sì, siamo molto positivi. Quest'anno, in confronto all'anno scorso, sembra che ci siano i presupposti per avere una ripartenza forse più definita verso fine anno. Però già da adesso si è visto con la presenza numerosa in fiera dei nostri clienti, dei partner, in cerca anche di qualcosa in più per migliorare il loro modello di lavoro che avevano applicato negli anni passati. Quindi, diciamo, arrivederci al prossimo appuntamento. Speriamo a presto. Grazie.